Exoratics, oggi sono qui a presentarvi questo nuovo arrivo, si tratta di una Touran nella sua motorizzazione diesel da 115 cavalli. È una vettura immatricolata nel 2020 con solamente 39.000 km in questa colorazione argento diciamo. Si tratta appunto di una vettura sette posti, infatti come potete vedere nel bagagliaio troviamo i due posti a sedere aggiuntivi con la possibilità ovviamente di scomparsa e di guadagnare ovviamente capacità di bagagliaio. Passando agli interni nella parte posteriore troviamo tre sedili regolabili singolarmente e tutti e tre dotati di attacchi ISOFIX come potete vedere scorrevoli. Passando invece all'anteriore troviamo ovviamente il cambio a sette rapporti DSG famosissimo di casa Volkswagen, navigatore satellitare direttamente integrato nello schermo, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e ovviamente troviamo diciamo tutta la comodità dei comandi al volante, cruise control adattativo e sensori di luce. Come sempre vi ricordo che potrete trovare l'annuncio sul nostro sito rattix.com. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo arrivo.